Amici dell'Hockey su ghiaccio, buonasera e bentrovati ad Hockey Time. Siamo pronti a cominciare, salutiamo i nostri ospiti, coach Max Ansoldi, allenatore dell'Hockey Club Merano. Ciao Max e complimenti innanzitutto. Salutiamo anche il nostro opinionista, Michele Ciresa. Ciao Emanuele, ciao Max, buonasera a tutti. Ciao Michele, partiamo da te naturalmente Max, facendoti complimenti per questo obiettivo raggiunto, la finale. Sì, grazie per i complimenti, è stata una semifinale molto combattuta. Ce lo aspettavamo perché comunque il Bressanone sapevamo che ai playoff avrebbe cambiato marcia, l'avevamo già visto perché battere il Pergi nei tre partite comunque non è una cosa facile. Avevano il roster al completo, noi avevamo, ci mancavano quattro giocatori quindi quasi una linea completa. E i complimenti li giro ai miei ragazzi perché hanno saputo soffrire, sono stati concentrati tutte e quattro le partite e ci siamo presi questa finale. Per di più contro il Caldaro, quello che volevamo. Avete sete di rivincita perché sappiamo com'è andata a finire la finale di Coppa Italia, una sonora sconfitta e quindi sicuramente avrete modo di rifarvi. Sì, come dicevo prima siamo contenti che la finale sia questa e onestamente potevano arrivare quattro o cinque squadre in finale. Quest'anno veramente il campionato è stato molto equilibrato, vedi un Bressanone, vedi un Cavalese, Fiemme scusami. Queste squadre erano quelle che potevano giocarsi la finale e noi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sofferto, veramente sofferto, partite molto tirate, ritmo alto. Sono molto contento di averla chiusa alla quarta così posso fare rifiattare un po' i giocatori, anche quelli un po' più anziani. Niente, sono veramente felice. Michele, un tuo pensiero. Innanzitutto, insomma, se vi può consolare il Caldaro in finale, quindi diciamo il Val di Fiemme non ha perso proprio con... Ma no, diciamo che la finale rispecchia un po' l'andamento del campionato. I valori espressi sui piaccia. Sì, perché alla fine il Caldaro è stato quasi sempre primo, poi ha avuto un po' di calo magari dopo la vittoria della Coppa Italia e ha perso le prime due posizioni. Lì il Merano era in un momento di forma, quindi è arrivato primo. Diciamo che è una finale giusta, fra virgolette, chi ha giocato meglio il campionato. Come diceva Max prima, il livello sicuramente si è alzato e c'era molta più vicinanza, diciamo, dalla prima all'ottava. Perché anche il Varese comunque giocare, come ho sempre detto, non è mai facile. Quest'anno è una squadra competitiva, quindi campionato equilibrato. In finale vanno due squadre sicuramente forti, diverse secondo me tra loro. Il Merano forse ha più qualità, il Caldaro ha dei giovani che pattinano, ottengono il ritmo e non ti fanno giocare. Quindi sarà una finale bella chiusa. Max, abbiamo sentito il parere di Michele. Davvero, adesso vi aspettano delle partite, sicuramente saranno guerre. Ogni partita. È una finale, per forza di cose. Noi non cambieremo nulla. Spero di recuperare qualche giocatore, quello sì. Ma anche il Caldaro, so che è un attimino in emergenza, mancano giocatori anche a loro. Quindi, niente, è una finale, non c'è niente da tirare indietro la gambina o il braccino. Bisogna giocare, giocare col male, giocare e soffrire. È molto dura adesso. Io capisco, parlavamo prima con Michele. Sai, quando giochi una partita tutto l'anno, una partita, qualche volta due partite, e poi passi a giocarne tre, una dietro l'altra durante la settimana, è veramente dura. Quindi, secondo me, vincerà la squadra che stringe di più i denti, che saprà recuperare di più e soffrire di più. Ci prepareremo per questo, ecco. Sicuramente anche l'esperienza conterà molto. E tu puoi contare sui giocatori sicuramente di esperienza. L'esperienza sì. C'è Luca, Fagioni, tutta gente che sa come si giocano, si affrontano le finali. Sì, però l'esperienza è un'arma a doppio taglio, nel senso che l'esperienza vuol dire che hai una certa età. E giocare tre volte alla settimana a una certa età fa male, pesa. E loro invece hanno giocatori giovani, con meno esperienza, ma sicuramente hanno più fiato e più gambe. Quindi, certo, se potessi scegliere tra una e l'altra, sceglierei sicuramente l'esperienza. Io vedo un 50-50, anche per come sono andate le partite durante la regular season. Niente, si vedrà. Chi ha più voglia di vincere, vince. Su cinque partite vince la squadra migliore, sicuramente. Probabilmente partirai con i favori del pronostico, anche se giustamente, come dicevi Pocanzi, per te è il 50%. Però Merano, insomma, ha i giocatori di qualità, come detto, anche con più esperienza. Quindi sicuramente dovrai accettare il ruolo di favorita. Anche se poi in campionato, bisogna essere sinceri, il Merano è uscito più volte sconfitto dal Caldaro. Volevo proprio dire questo. Se partiamo favoriti è perché magari abbiamo il vantaggio a casa. Perché se guardiamo gli scontri diretti ne abbiamo avuto uno su, adesso non so, cinque, sei, quanti erano. Quindi non riesco a capire perché dobbiamo partire come squadra più forte. Loro sono rimasti al comando del campionato quasi tutto l'anno. Hanno avuto un calo, come ha detto Michele. Per cui, ti ripeto, per me è un 50%. Se poi vogliamo darci dei favoriti, possiamo anche darci dei favoriti, perché a me non me ne frega assolutamente nulla. Abbiamo una partita più in casa. Abbiamo un portiere forte, c'hanno un portiere forte loro. Abbiamo la difesa solida, c'hanno la difesa solida loro. Abbiamo un attacco forte noi, hanno un attacco forte loro. Quindi sicuramente lo spettacolo è assicurato. Speriamo, sì. Una finale, spero di sì. Michele, tu li hai affrontati, quelli del Caldaro. Io dicevi appunto dei giovani, ma anche e soprattutto di giocatori come Daniel Tedesco, Alex Sulman, veramente autentici, fuori classe. Sì, esatto. Come si torna sempre indietro, no? Il Merano ha più esperienza, più giocatori di qualità, magari rispetto al Caldaro. Il Caldaro ha tutto, secondo me, dalla sua parte, perché comunque è arrivato in finale, ha vinto la Coppa Italia. Quindi secondo me, anche questione di testa, il Merano deve affrontarla con la testa giusta. Il Caldaro, secondo me, scenderà in campo più tranquilla a livello di testa, perché comunque non ha niente da perdere. Hanno già fatto veramente tanto. E secondo me la differenza la farà il power play, il penalty killing. Sono due squadre, abbiamo visto anche il Merano ieri, su cinque gol ne ha fatti quattro in power play. Il Caldaro era 1-1 fino a tre minuti alla fine, la zampata di Tedesco a due minuti alla fine in power play. Poi ha fatto un altro gol in penalty killing. Quindi 50-50, sì, sicuramente una finale, non c'è mai nessuno favorito. Anche perché vedo due squadre forti, quindi i piccoli dettagli decideranno le partite. Non vedo una partita che finirà con più di due gol di scarto, secondo me, perché veramente sono lo stesso piano. È molto sottile. Ieri sera eravamo a Caldaro. C'è un servizio, lo mandiamo in onda e poi rientriamo in studio e commentiamo. Sulman, un'altra volta decisivo. Alex, complimenti, avete raggiunto l'obiettivo, la finale, bravi. Era una partita difficile. Chiudere le serie è una delle cose più difficili che esiste nell'hockey, però l'abbiamo fatto come squadra e ci siamo meritati. Soprattutto con una squadra difficile come Lappiano. Sappiamo che Lappiano è una squadra di esperienza. Erano i campioni uscenti, era un derby. Ma voi l'avete affrontato nel migliore dei modi e siete riusciti a sfruttare al meglio il vantaggio anche di giocare in casa. La partita decisiva, se vogliamo. Esatto. No, proprio oggi si vedeva che siamo andati in attacco. E quello significa che non le abbiamo dato spazio. Abbiamo pattinato di più, abbiamo finito le cariche. E abbiamo fatto i gol. Adesso vi aspetta il Merano. C'è un'altra sfida. Di nuovo si affronteranno Caldaro e Merano. Dopo la finale di Coppa Italia di nuovo di fronte. Probabilmente le due squadre che hanno meritato di più in questo campionato. Sì, sono sempre le piccole cose. Sono le ultime due squadre che se lo sono meritate. E il prossimo giovedì inizia la prossima avventura, quella grande. Siamo con Thomas Valtaler, il capitano del Caldaro. L'impresa del Caldaro. In finale. Che stagione, Thomas? Sì, stagione è andata molto bene fino adesso. Era una partita veramente dura. Fino al terzo tempo non si sapeva chi vince, chi perde. Dopo alla fine hanno fatto dei piccoli errori e la differenza. Noi abbiamo fatto i gol nel power play e i special teams hanno fatto la differenza. Thomas, davvero, avete giocato i play-off in maniera straordinaria. In situazioni anche difficili, critiche, perché prima sotto di 2-0 col Val di Fiemme. Oltretutto, primi del portiere, Morandel, una squalifica di Alex Sulman. Siete andati a Cavalese in una situazione veramente difficile. Siete riusciti a ribaltare 3-2. E poi avete affrontato un'altra squadra come la Piano, difficilissima. E avete raggiunto l'obiettivo. Complimenti perché siete veramente una squadra fantastica. Sì, grazie. Sì, era molto difficile perché fino adesso ne abbiamo giocato neanche una volta completo. Però ognuno sa il suo ruolo nella squadra. Io penso che quella è la nostra forza. Che possiamo giocare con ognuno giocatore. E questa è la nostra forza. Patiniamo e cerchiamo di fare meno errori possibili. E giocare un gioco veloce e semplice. Michele, abbiamo sentito le interviste di Alex Sulman e Thomas Valtaler, due giocatori fondamentali e che hanno giocato a livelli altissimi. Ma ieri sera c'è stato anche un giovane che di 16 anni, un certo Maxi Selva, che conosci benissimo, che veramente ha sostituito in maniera meravigliosa l'assente Wieser e non ha fatto assolutamente pesare un'assenza importante come quella di Florian Wieser. Ma sicuramente Sulman e Valtaler, tutte le squadre vorrebbero averli. Perché sono due difensori forti tecnicamente. Pattinano, sono duri, quindi veramente sono due dei migliori difensori della Lega, probabilmente. Il ragazzo Selva già con noi aveva fatto vedere veramente delle buone cose. Perché ha molta grinta, fisicamente è solido. Sicuramente avrà un futuro roseo se continuerà a questi livelli. Max, abbiamo sentito le parole dei due giocatori. Sappiamo che comunque hanno anche la tua stima, perché mi dicevi di Thomas Valtaler, che è un giocatore che sicuramente vorresti nel tuo roster. Sì, è un giocatore che dà sempre tutto. Molto solido, molto solido. Gli altri anni magari andava sì un po' troppo in avanti. Adesso si è proprio, se non sbaglio, lui era un attaccante. Adesso si è proprio messo nei panni del difensore. È un difensore che fa tanti minuti, ha tanto fiato, tante gambe. È un giocatore, come diceva Michele, che tutti vorrebbero in squadra. Torniamo a parlare del tuo roster. Ci sono anche dei giovani che hanno fatto molto bene. Proprio nelle ultime gare col Bressanone sei anche stato costretto a metterli sul ghiaccio, fra virgolette, perché le numerose assenze... Quindi, prendiamo esempio con Mattias Helweger, che ieri ha fatto gol, ha 17 anni, ricordiamolo. Quindi, anche nel Merano stanno crescendo degli ottimi giovani. Sì, abbiamo, a inizio stagione, abbiamo deciso di portare quattro ragazzi di 17 anni, 4-5, in prima squadra, di farli allenare con noi e, per quanto possibile, anche di farli giocare. Purtroppo, dico, quest'anno è stato un campionato molto livellato. Livellato. Quindi, sai, come allenatore, tu hai la pressione comunque di avere una squadra che deve vincere e hai la pressione di dover far giocare anche i giovani. Ho fatto fatica a farli giocare, quando potevo li ho fatti giocare, si sono sempre impegnati, sono stati veramente bravi e adesso, vedi ben, quattro assenze le abbiamo messi in campo e hanno fatto bene tutti, Mattias, ma anche gli altri, Christian Verza, Franz Erspamer, Michi Pircher, hanno fatto tutti il loro dovere. E poi hai recuperato un altro giovane, un certo Ingemar Gruber. Sì, Ingemar Gruber l'ho recuperato, anche lui è un giovane, adesso non so se ha la mia età, o forse un anno, due anni o meno, non lo so. Ha già tanta esperienza? Ha tanta esperienza. Non l'ho, e si è visto anche ieri sera? Dico la verità, non l'ho recuperato io, l'ha voluto la squadra, l'ha voluto la squadra e ho fatto decidere la squadra, perché comunque l'assenza di Pontus Moren era veramente pesante. La squadra era giù di morale per la sconfitta in Coppa Italia, Ingemar si è sempre allenato con noi, era già tesserato, quindi, e perché no? Ce l'avevamo lì e non ci vedo niente di male, la squadra ha deciso così, io non volevo creare malumore in squadra, visto che erano tutti, tutti dal primo all'ultimo d'accordo, ho dato il benestare, e sono contento. E lui da subito si è dimostrato prontissimo, perché ha giocato anche ieri sera una partita di livello. Ha giocato benissimo, beh, un giocatore come lui, insomma, un allenatore non deve spiegargli niente, lui si sa autogestire, sa quando andare, quando non andare, sa come allenarsi, quindi qualche volta non si allena, io lo accetto, perché lui comunque conosce, dopo tutti questi anni conosce il suo fisico, sa dove può arrivare, e sul ghiaccio è molto intelligente, non spreca energie, passaggi ieri penso che non ne ha sbagliato uno, quindi è un valore aggiunto, visto la perdita pesante di Pontus, è sicuramente un giocatore che ci aiuterà tanto in finale. Facciamo i complimenti a Ingemar Gruber. Michele, stiamo parlando di senatori, sei anche tu un senatore della tua squadra, sappiamo quanto è importante il valore di un senatore per la squadra, soprattutto adesso, quando c'è veramente da mettere sul ghiaccio, esperienza e dare il contributo anche a aiutare i giovani. Certo, lì vedi il vero leader, se la squadra dopo cinque mesi che lavora, fa fatica, e chiede di avere un giocatore come Inge, vuol dire che in spogliatoio è uno che conta, che è importante, e più che magari parlare con piccole cose, fa sul ghiaccio e bastano per capire veramente cosa c'è da fare e la squadra va dietro. Sicuramente adesso non so, ma non sarà il capitano Inge, però è un trascinatore, è un leader, tutti lo seguono, perché comunque è un giocatore che ha vinto, anche a Merano, quindi sicuramente è uno che traina la squadra in campo e anche in spogliatoio. Bene amici, ci fermiamo per un piccolo break, torniamo subito, non andate via! Max conoscendoti non ci avrai dormito stanotte per lavorare già sulla finale, quindi sicuramente saprai già come impostare la tua squadra contro il Caldaro. Ovviamente non ci svelerai nulla immagino. Devo dirti, non ti dico niente perché così fesso non sono. No, sappiamo quali sono i loro punti deboli, che sono pochi, però li conosciamo, ho tanti video, li ho guardati, li ho insieme al mio assistente allenatore, li abbiamo studiati, guardati, riguardati, finale, partita che abbiamo vinto, partita a Caldaro, quindi sappiamo bene quali sono i loro punti deboli. La partita di finale di Coppa Italia l'abbiamo sbagliata completamente, non cerco scuse, la squadra non era al 100%, però abbiamo sbagliato alcune cose che non sbaglieremo adesso in finale. e niente, guarda, io dico quello che ha detto Michele prima è la cosa giusta, vinceranno gli special team, Powerplay, P.K., saranno partite molto molto strette secondo me, perché i portieri sono ottimi portieri, anche Alessandro si sta dimostrando veramente una sicurezza, da fiducia alla squadra, quindi dobbiamo sfruttare le loro poche debolezze, che quelle poche debolezze che hanno noi dovremmo sfruttarle e appunto usare l'esperienza, perché a fiato ne hanno sicuramente più loro, noi abbiamo più esperienza e dobbiamo usare l'esperienza. Sappiamo che tutti temono il Powerplay del Merano, perché gioca veramente un Powerplay perfetto. Il Powerplay adesso i giocatori, diciamo l'ossatura del Powerplay adesso è già da tre anni che ci sono questi giocatori che lavorano insieme, quindi si conoscono a memoria, lo alleniamo veramente tanto, io sacrifico tanto tempo di quel poco che abbiamo, perché comunque non abbiamo due allenamenti al giorno, ne abbiamo uno al giorno e devi far allenare un po' tutti i giocatori, però io mi prendo magari quel quarto d'ora, a venti minuti, non dico tutti i giorni, ma spesso lo alleniamo, abbiamo inserito Radin che ha un buon tiro e Oliver, nostro straniero. Che sta crescendo molto. È un gran lavoratore, non è appariscente, ma io ne vorrei dieci di stranieri così. Lavora, lavora per la squadra, non butta via dischi, è fortissimo in penalty killing, è forte in Powerplay davanti alla porta, ha fatto dei gol veramente pesanti. Comunque tornando al discorso del Powerplay, il Powerplay sì, va bene perché si conoscono, perché non è una cosa che uno si inventa, va dentro, metti dentro cinque giocatori e dici fate il Powerplay, lo devi provare, riprovare, riprovare e ripeto, tanti giocatori del mio Powerplay si conoscono da anni e sanno a memoria i meccanismi, i movimenti e si trovano bene. Michele, voglio metterti in difficoltà, ecco, su quale panchina vorresti sederti in questa finale? In mezzo? Non puoi, non si può. No, non lo so veramente, io resto seduto su quella del Fiemme e mi godo la finale, no, a parte gli scherzi. Molto diplomatico Michele. Sarà una bella finale, vediamo in bocca al lupo a tutte e due le squadre, niente, ripeto, ha due sistemi di gioco secondo me diversi, il Powerplay, il Caldaro, sicuramente ha una linea che, quando è dentro, quella di Wieser, tedesco, e Valtaler, Sulman, Colombo, fanno girare bene il disco, hanno dei tiratori, tedesco, soprattutto nell'entrata di zona, è uno che non butta mai via il disco e riesce, non so come, sempre a entrare in zona e poi iniziano a farlo girare. Il Merano, dal canto suo, ha giocatori che in PK giocano bene, in Powerplay anche, quindi vediamo, ci troviamo venerdì prossimo e vediamo com'è andata gara 1. Te la sei cavata la grande! E invitiamo soprattutto tutti gli amici appassionati ad assistere a queste gare di finale, perché veramente ci sarà da divertirsi, perché lo spettacolo è assicurato. Adesso andiamo a vederci la nostra top 7 di questa settimana. In porta Alex Andergasen che ha sostituito in maniera egregia l'infortunato Morandell, il giovane Michael Selva a sinistra che sta giocando ad ottimi livelli, a destra Alex Sulman che conferma tutte le sue qualità di giocatore, in attacco un tridente che tutte le squadre vorrebbero avere, Lucan Soldi a sinistra in mezzo, tedesco e a destra l'eterno Flavio Fagioni. Max, commentiamo un po' questa top 7 che vede come coach Max Ansoldi. Commento i giocatori io. Io avrei messo Fagioni in mezzo e Luca e Todesco come ali. Io Fagioni e Ala non riesce a giocare. Troppo lento. Io metto l'in mezzo. Vedi, tu sei un coach e giustamente sei un ottimo osservatore. Comunque sarebbe un gran bell'attacco questo. Sì, sì. Una bella linea. Una bella linea anche per la Alps. Non solo per la... Assolutamente d'accordo. Michele, tu devi commentare il coach invece. Max Ansoldi. Il coach io l'ho avuto compagno di squadra un anno e poi lo conosco da tanto tempo. Sicuramente un allenatore che mette passione, tempo, ha esperienza. si vedeva già in spogliatoio che era uno che gli piaceva fra virgolette comandare e tutti lo rispettavano. Un vero leader. Un vero leader. Quindi è un bravo coach. Cimerano lo fa girare bene. Ha vinto il primo anno che ha fatto l'allenatore mi sembra. Il secondo anno. E poi ha sempre fatto bei campionati. adesso vediamo. Magari gli arriva una chiamata dal Val di Fiemme st'estate. Bene amici. Anche per questa settimana il tempo a nostra disposizione finisce qui. Vi aspettiamo naturalmente negli stadi. Buona serata a tutti e naturalmente buon ok a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti.